Buongiorno, oggi la rassegna stampa, la zuppa di porro è concentrata sulle questioni di cui i giornali parlano tutti quanti, praticamente è Visco, il governatore della Banca d'Italia, che sarebbe stato sotto un incredibile attacco perché il Partito Democratico si è permesso di fare una mozione in cui dice che probabilmente non è la persona più adatta per gestire la vigilanza, anzi non l'ha detto così esplicitamente, la vigilanza del sistema bancario italiano. Guardate, la cosa è talmente ridicola perché oggi tutti sono compiaciuti del fatto che ora Visco la posizione di Fisco è più forte, ma è evidente, quando uno fa una mozione parlamentare non fa dei giochetti parlamentari, cioè segreti di piccolo cabotaggio, è del tutto evidente che diventa il martire, soltanto voglio dire qualche star televisiva tipo Fazio diventa, come possiamo dire, molto più ricco grazie alla martirizzazione che c'ha sui giornali, invece Visco oggi è più forte. Tutti i giornali, tutti contro Renzi, contro la sua idea di attaccare il governatore della Banca d'Italia, attaccare vuol dire fare una mozione parlamentare alla luce del sole, farla votare dai parlamentari che sono stati eletti dai cittadini, è diventato come il cavaliere, qualsiasi cosa tocchi, come il cavaliere diciamo nei tempi neri, oggi è diventato il padre della patria, il cavaliere Berlusconi, all'epoca invece Berlusconi qualsiasi cosa toccasse era una specie di schifezza. La stessa cosa oggi riguarda Renzi, pare che sia uomo solo, non al comando, ma diciamo alla guida del PD. Un suo parlamentare che si chiama Meloni, oggi in un'intervista ha parlato di atto di teppismo parlamentare, atto di teppismo parlamentare, la cosa che dico io, ma questo Meloni, che io non so neanche chi sia, deve essere ovviamente non un renziano, pensa che sia, si può definire teppismo parlamentare una mozione votata sulla Banca d'Italia, ma come cavolo, ma cosa devono fare i parlamentari? Teppismo parlamentare, ma dove vive, da dove esce questo Meloni? Negli ultimi 50 anni le emozioni parlamentari che hanno parlato di tutto e il contrario di tutto, che cosa sono? Teppismo parlamentare, se dei parlamentari votano una mozione. Io prenderei questo Meloni, vorrei vedere quello che ha fatto negli ultimi anni, questo signorino così delicato, che pensa che sia teppismo parlamentare, mettere in discussione una banca d'Italia, un vertice della Banca d'Italia, che negli ultimi anni ha gestito e controllato talmente male il nostro sistema bancario, che doveva essere il sistema bancario più solido del mondo e mi sembra il più fragile di tutti. Verderami sul Corriere della Sera, la giornata difficile, il governatore, oh, ma questo è un signore di 65 anni che sono 40 anni che ha fatto il giro delle burocrazie di tutto il mondo e ci fa due palle così con queste considerazioni finali, non è Draghi, è uno scuro funzionario della Banca d'Italia che è fatta da 7 mila dipendenti e che adesso sembra che ci sia l'attacco ai tempi come i tempi di Baffi con la P2. Sabino Cassese oggi, ve lo leggo, Sabino Cassese, sapete cosa si dice? La ferita più grave di quella del 1979, hanno arrestato Sarcinelli, il direttore della Banca d'Italia, c'era la P2 e questi pensano che la ferita di una mozione parlamentare sia peggiore della mafia di Sindona, di Andreotti che cercò di, Andreotti diciamo, la componente andreottiana che cercò di far fuori la Banca d'Italia, ma dove vivono? Se tu pensi che una mozione parlamentare sia peggio di un arresto pilotato dalla magistratura, siamo veramente, tant'è che qualche ragionevolezza oggi la trovi, la trovi nel pezzo di Rampini sul Repubblica. Rampini dice, scusate ragazzi, guardate che in tutto il mondo il banchiere centrale dagli Stati Uniti in giù viene discusso politicamente e c'è un repubblicano alla guida della Fed o un democratico in funzione del Presidente americano, hanno un orientamento politico perché determinano la crescita del Paese, queste banche centrali, non è che sono delle specie, no, il chirurgo, non è che io sto nominando il miglior chirurgo, no, il governatore della Banca centrale ha un suo peso e scusatemi, se siete così, pensate che sia tutto questo teppismo parlamentare, perché nessuno si è opposto nel 2005 al fatto che il governatore della Banca d'Italia da essere a vita diventasse sindacabile ogni sei anni? Vabbè, io trovo una grandissima e gigantesca ipocrisia tutta quella che sta circolando intorno alla Banca d'Italia, la difesa improvvisa di Visco, da parte dell'establishment italiano. Guardate, ve lo dico così, insomma, grazie ai saluti dei figli. Altra cosa, Andrea, probabilmente gli interessi di Renzi questa volta vanno a scontrarsi con quelli degli altri e qui è il punto di Sallusti, dice, e su questo punto, devo dire, sulle ultime tre righe del pezzo di Sallusti io abbastanza condivido, bravo Daniele, Visco è perfetto per diventare Presidente della Repubblica, è vero, è classica riserva della patria. E Sallusti che cosa dice? E in questo è molto bravo perché giornalisticamente ci sta tutta questa frase, pur non condividendo io gli attacchi che oggi riceve la parte politica di sinistra, che certo non mi avvicina per aver messo in discussione il ruolo di Visco. Ma dice Sallusti, Laboschi chiede le dimissioni con questa, diciamo, mozione del PD, Laboschi chiede le dimissioni di Visco per non aver fatto controllare le malefatte del padre Laboschi e devo dire che messa così Sallusti è geniale perché c'è ragione, perché Laboschi è l'artefice di questa e quindi c'è una componente probabilmente personale di vendetta di questi toscani, pensate un po', lasciamo perdere, insomma lo sapete come sono questo piccolo club verdurin dei toscani di Lignano, però questo non toglie che ogni tanto anche l'orologio rotto segna l'ora giusta, in questo caso l'idea di dire che Visco non è assolutamente inattaccabile forse converrebbe farla, referendum domani in Lombardia e in Veneto, Di Vico oggi nota giustamente sulla prima pagina del Corriere della Sera come c'è stato molto fair play in questa campagna elettorale, che sia bipartisan anche la richiesta di dare più autonomia alle regioni più virtuose d'Italia, io penso che sia interessante importante pensare che le regioni che gestiscono meglio i loro soldi e che hanno un sistema produttivo più ricco possano gestirsi anche in maggiore autonomia, questo non ha nulla a che vedere con indipendenza, secessione, robe di quel tipo che secondo me non c'entrano nulla, come dice Di Vico con questa roba qua, il fatto segnala che questa roba qui costerà 70 milioni, mi diverte il fatto che quando la democrazia ha un costo come il referendum si scandalizza, cioè aboliamo tutto quanto, no, niente, siccome tutto ha un costo aboliamolo, ci può stare, lo smog a Torino, ieri i giornali dicevano 9 milioni, i siti internet, 9 milioni di morti per lo smog a Torino, nel mondo, lo smog uccide una persona, un morto ogni sei deriva dallo smog e poi lo smog è la peste del secolo, oggi sui giornali c'è poco niente, anche perché la proposta nasce dal fatto che la Boschi, la Boschi, non ho fissato l'appendino, ha detto chiudetevi a casa, non dovete neanche aprire le finestre e ovviamente adesso vi sto leggendo una cosa perché me l'ha mandata stamattina una persona di cui ho grande stima, la trovate sul sito nicolaporro.it che si chiama Ruggeri, che di Torino è un grande signore, è da operaio, da figlio di un custode di una palazzia di Torino, è diventato amministratore delegato della CNH e oggi scrive una cosa che secondo me è favolosa, parte la emergenza smog a Torino, chiudetevi in casa. Curioso, da quando siamo spassati da sporca città dell'automobile a intonsa città europea dell'occultura, lo smog è andato alle stelle, eppure i capannoni industriali sono deserti, nessuno lavora più, furgoni impazziti lasciano pile di libri nelle portinerie, i ciclisti di Fudora con segnano pizze dagli improbabili cornicioni, i miei concittadini non li riconosco più, tanto sono colti, sprizzano vivacità, intellettuale da ogni poro, neppure io non mi riconosco più, temo che la mia intelligenza sia esplodendo diventando artificiale, tutto questo smog sarà dovuto alle app o alle start-up, questo eccesso di culture di intelligenza artificiale ci farà mica precipitare nell'idiozia. Grandissimo Ruggeri perché se Torino è la capitale della cultura, come spiegate che Torino sia la capitale dello smog? Perché è una balla, come scrive Filippo Facci oggi sul libro, lo smog è diminuito, nonostante quello che dice l'Appendino, i morti per lo smog, voglio sapere i nomi e cognomi perché non ci sono, si muore e la speranza di vita è aumentata di tre anni, l'ho spiegato ieri di Radio 105, il sistema col quale si fanno queste statistiche sui morti e lo smog sono delle truffe, delle truffe, l'occupazione del Virgilio è un'altra truffa, quegli studenti bisognerebbe prenderli a calci nel sedere, dovrebbero farlo non io, ma lo dovrebbero fare i genitori perché gli studenti che occupano le scuole sono dei cretini perché occupano e vengono, ed è diseducativo occupare dei beni pubblici che sono per il 90% degli altri resilienti studenti dovrebbero essere usati per fargli avere una realtà, un futuro diverso rispetto a questi quattro figli di papà che occupano il Virgilio, la scuola fighetta a Roma e però sapete Marina Valenzise oggi che cosa dice? Dice che non c'è più, i genitori questa volta sono un po' più arrabbiati con i loro figli perché dicono che state facendo occupate, perché in questo caso non c'è più l'ideologia, non c'è più il Cile, non c'è più la politica, non c'è più il Partito Comunista, ma qua se beve, se magna, se vede la Roma, però il punto è un altro, non è che questi devono essere cacciati dal Virgilio che stanno occupando perché se beve, se magna e se vede la Roma, perché se avessero invece fatto Xi Jinping, il Vietnam, Che Guevara, se avessero occupato per questi motivi dovevano essere cacciati nello stesso identico modo, le scuole non si occupano, non è roba loro, se vogliono occupare una scuola, vanno dal professore, gli chiedono un'aula e se l'autogestiscono se il professore e il preside lo ritiene opportuno, ma non si occupano le scuole, punto e basta, sia che se parli della Roma, sia che si parli di Che Guevara. Ragazzi, ciao!